Sì, io non capisco perché è una prima volta importante, no? Cioè una donna a Palazzo Chigi, quindi perché non sottolinearlo anche con il linguaggio, cioè la Presidente? O è chiedere troppo a una leader di un partito che si chiama Fratelli d'Italia e quindi anche nel nome ha dimenticato le sorelle? Questa è la domanda.